Azione! Se dovessi scegliere una parola per descrivere Mindstack, questa sarebbe sicuramente scommessa. La prima volta che ho letto lo script di Mindstack sono rimasta piacevolmente sorpresa e molto colpita dalla storia. Immaginavo e sapevo che potesse suscitare interesse nel pubblico. Il messaggio di quello che vediamo all'interno del corto secondo me può essere appunto i propri demoni, le proprie paure che prendono il sopravvento su di noi. Il mio primo pensiero quando ho letto lo script di Mindstack è stato questo potrebbe essere veramente un qualcosa che colpisce il pubblico, che colpisce lo spettatore per via del suo colpo di scena finale. Perché alla fine è quello che ci capita magari nella vita quotidiana, che siamo sempre a combattere contro noi stessi e vari aspetti di noi che non sempre magari conosciamo. Grazie per la visione!